L'avanzata dell'Armata Rossa in territorio tedesco è rapida e brutale. In pochissimi mesi abbiamo raggiunto Zilov, l'ultima linea di difesa prima della capitale di Barsan. Noi superiamo i tedeschi di 10 a 1. Ondata dopo ondata la nostra fanteria viene lanciata contro di loro per fare strada all'Armata Rossa. Una volta ottenuto il controllo di Zilov, inizieremo la nostra marcia su Berlino. Lì faremo in modo che ogni nostro sacrificio sia ripagato con il loro sangue! Grazie per la visione!